30 anni di latitanza, 252 giorni di carcere. È morto la scorsa notte in una camera blindata dell'ospedale di L'Aquila il capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, 61 anni, condannato all'ergassolo per la strage dei georgofili, che la sera del 27 maggio 1993 fece cinque morti, l'intera famiglia Nencioni, babbo, mamma e due sorelline e uno studente universitario. Da molto tempo malato di tumore, il capo mafia era entrato in coma irreversibile venerdì La latitanza del boss di Castelvetrano era finita lo scorso 16 gennaio, quando i carabinieri del ROS e del GIS lo arrestarono in una clinica privata a Palermo, dove per tutti era un anonimo Andrea Bonafede. Una lunghissima carriera criminale tradotta in otto ergassoli e una lunghissima latitanza, cominciata in Toscana, a Forte dei Marmi, qualche settimana dopo l'autobomba fabbricata a Prato e piazzata in via dei georgofili. Lì, dove stava trascorrendo vacanze di lusso sfrenato, come raccontò qualche anno dopo uno dei fratelli Graviano, Giuseppe, anche lui condannato all'ergastolo per la strage dei georgofili, Messina Denaro seppe di essere destinatario di un mandato di cattura per quattro omicidi commessi nel 1989 e decise di rendersi irreperibile. Amava la Toscana, o Siccu, questo insieme a Diabolic, uno dei due soprannomi del capo mafia, innamorato della Versilia e del Carnevale di Viareggio, di cui sarebbe stato immancabile spettatore. Ma a legare il boss di Castelvetrano alla Toscana ci sarebbero stati anche interessi economici in Versilia e nella zona di Pisa, interessi e legami, nomi e cognomi che sarebbero scritti in verbali secretati dalla procura di Firenze. Matteo Messina Denaro porta con sé segreti e misteri e non solo, su connivenze, appoggi, fiancheggiatori e prestanomi di tre decenni di latitanza. L'associazione Vittime dei Georgofili ha sperato che l'arresto del boss potesse completare il mosaico della verità sulle stragi del 93. Un mosaico a cui mancano diversi tasselli. Luigi Dainelli, presidente e zio delle sorelline Nencioni, lo ha detto tante volte. Messina Denaro non parla e la verità resterà sospesa. Da oggi questa è una certezza.